Il Laos Jazz Festival è un evento che fa parte del circuito del Peperoncino Jazz Festival, una a tre giorni all'interno di una location affascinante che è la corte del Palazzo dei Principi Spinelli, una a tre giorni con artisti nazionali e internazionali, artisti come Ada Montellani, con Terry North Garden, Walter Ricci. È un evento per promuovere la musica jazz ma anche per promuovere il nostro territorio, l'Alto Tirano Cosentino, che è un territorio meraviglioso. Siamo stati fermi per tanti anni, è bello ritornare sui palchi, è bello essere nel Peperoncino Jazz Festival, essere stata ospite di questo grandissimo festival che non è solamente un festival della Calabria ma italiano, dei migliori festival che abbiamo in Italia di jazz. Il jazz è una musica che funge anche da collante, è una musica che significa anche aggregazione, che significa socialità, quindi è molto bello ritornare attraverso il jazz proprio a comunicare quello che è la musica, che è lo strumento di socializzazione maggiore, quello che proprio coinvolge sia noi musicisti ma anche il pubblico in questo percorso che a me piace sempre fare, che è un percorso che è intorno alla canzone, quindi la canzone sempre reinterpretata in chiave jazzistica, ma un repertorio che abbraccia sia la musica italiana, quindi il grande cantautorato come quello di Luigi Tenko ha grandi standard del jazz o del cantautorato proprio anche folk americano.